Ben tornato Goodler, ben tornata Iniziamo questa nuova decade del pannello di controllo parlando di una sezione che già in parte hai visto nella lezione 72 quando ti ho descritto la disinstallazione dei programmi questa sezione del pannello di controllo si chiama programmi e funzionalità a cosa serve? A disinstallare dei programmi ma non solo anche a modificarne la configurazione magari aggiungendo o rimuovendo determinate opzioni agli stessi come accedi naturalmente vai nella sezione del pannello di controllo e clicca sul pulsante omonimo dopo qualche secondo potrai vedere la lista dei programmi che sono installati in quel momento nel sistema operativo anche se un programma potrebbe comunque non essere presente lo potrai trovare nella lista che si presenta nella cartella interna al sistema operativo da esplora risorse nella sezione C programmi oppure C program files non solo, questa cartella la puoi anche trovare dal pulsante start dalla lista di tutti i programmi potresti trovare in questa cartella anche il file per disinstallare il programma stesso come potrai agire se desideri rimuovere il programma hai già conoscenza di come eseguirlo proprio come descritto nella lezione 72 ma in questa sezione come detto potrai variare anche altri parametri cliccando su uno dei programmi nella sezione superiore della lista si visualizzeranno uno o più pulsanti che ti consentiranno di interagire con il programma selezionato a seconda delle azioni che potrai eseguire tutto in maniera automatica potrai in definitiva anche modificarli, cambiarli, ripristinarli oltre alla semplice disinstallazione con la modifica il pulsante cambia potrai variarne alcune impostazioni mentre con la funzionalità ripristina verranno ripristinate alle impostazioni iniziali o se dovessero subire mal funzionamenti i parametri del programma potrebbero verificarsi anche dei problemi durante l'esecuzione dei vari processi cosa fare? la prima cosa naturalmente è ritentare di ripetere il processo come ad esempio la rimozione in secondo luogo potrai tentare di raggiungere l'obiettivo della disinstallazione avviando tale sequenza in modalità provvisoria del sistema operativo o infine poter ripristinare la configurazione di sistema ad una data antecedente alla sua installazione altre opzioni ce ne sono dalla sezione potrai accedere ad altre funzionalità alla sinistra in alto troverai il pulsante visualizza o disinstalla aggiornamenti installati attivazione o disattivazione delle funzionalità di Windows nella prima unità troverai la lista degli aggiornamenti dei programmi che potrai selezionare e disinstallare dalla seconda potrai attivare o disattivare alcune funzionalità del sistema operativo alcuni programmi e funzionalità di Windows sono già attivi dopo la sua installazione altri invece devono essere attivati prima di poter essere utilizzati quindi come puoi vedere aggiungendo o rimuovendo un segno di spunta e successivamente cliccando su ok potrai aggiungere o rimuovere funzionalità al sistema operativo in questa sezione in definitiva potrai attivare funzioni non attive e disattivare quelle attive a seconda delle tue necessità la disattivazione delle funzionalità però non corrisponde alla disinstallazione della stessa al termine di ognuna delle precedenti azioni si avvierà la procedura di rimozione del programma o il suo cambiamento o ripristino delle funzionalità o infine attivazione o disattivazione delle funzionalità stesse questo previa conferma da parte del sistema operativo la durata di questa operazione potrà essere variabile in alcuni casi sarà anche necessario riavviare il sistema operativo per rendere effettive le modifiche apportate eccoci alla parte pratica avviamo il pannello di controllo cliccando sul pulsante programmi e funzionalità in questa sezione troverai la lista dei programmi installati questa versione del sistema operativo come vedi ha pochissimi programmi installati perché la utilizzo soltanto al mero scopo didattico della registrazione di questa lezione comunque in linea generale cliccando sul programma che vorrai variare potrai interagire con lo stesso a secondo dei pulsanti che si creeranno in questa sezione quindi potrai semplicemente disinstallare il programma cambiare alcune impostazioni o ripristinarlo supponiamo di voler ripristinare questo componente aggiuntivo della Microsoft potrò cliccare sul pulsante ripristina si avvierà una procedura sostanzialmente automatizzata che tenterà di ripristinare questo programma qualora funzionasse in maniera errata oppure potrai decidere di disinstallare il programma cliccando sulle varie opzioni che si presenteranno potrai decidere in alcuni casi di rimuovere completamente il programma anche le impostazioni oppure rimuovere soltanto il programma ma lasciare inalterate le impostazioni per una eventuale successiva ristallazione in questo caso potrai cliccare su disinstalla il programma qualora lo volessi annulliamo l'operazione e ad una conferma naturalmente scegliamo su sì altra possibilità è cambiare le impostazioni in questo caso la procedura guidata mi genera un menu che mi permetterà di scegliere quale operazione eseguire con questo specifico programma ossia modificare alcune impostazioni riparare il programma qualora presentasse dei malfunzionamenti oppure disinstallarlo naturalmente questa opzione che si potrà presentare di volta in volta varierà in base alla tipologia del programma che avrai installato e con il quale dovrai interagire in alto a sinistra trovi il pulsante visualizza aggiornamenti installati in pratica ti lista gli aggiornamenti che sono installati fino a quel momento ed eventualmente potrai anche qui interagire con gli stessi una sezione forse importante è l'attivazione e la disattivazione delle funzionalità aggiuntive di Windows se ad esempio volessi aggiungere e rimuovere alcune funzionalità come potrebbero essere i vari giochi che sono normalmente installati oppure qualche altra opzione che vorrai rimuovere o aggiungere ti sarà sufficiente cliccare sul segno di spunta per eliminarlo oppure aggiungerne altri qualora tu lo volessi per poter ottimizzare e personalizzare al massimo il sistema operativo le funzionalità del sistema operativo ricorda dopo questa selezione dovrai cliccare su ok e di norma potrebbe durare diversi minuti a seconda della corposità della stessa funzionalità al termine di questa operazione potrebbe essere necessario riavviare il sistema operativo al fine di portare a termine le variazioni impostate ci leggiamo la prossima lezione per nuove informazioni sul pannello di controllo ora come sempre un forte saluto ciao a presto da Carlo e dalla prossima ciao a presto